Come il corriere delle pizze, l'ortai per scontato, ma vederlo ti rende felice. E ti manca, ti manca, a casa già ti manca, andare in bicicletta senza mani e senza l'ansia. Desso che ti vecchio, leggendo tale righe, di una capita che mi stirava mamma. Si è entrati nel vivo al parco commerciale Gli Orsi di Biella con Gli Orsi Summer Show. Protagonisti, i nuovi artisti emergenti, grazie ad un ricco palinsesto di appuntamenti che caratterizzerà i mesi di luglio, di agosto e di settembre. Le performance musicali live andranno in scena dalle 18.30 tutti i venerdì e le domeniche fino al 4 di settembre, ad eccezione delle due settimane centrali di agosto. E la partecipazione è totalmente gratuita. Band e artisti emergenti potranno prenotare la propria esibizione in modalità basking tramite l'app Open Stage. Le esibizioni si svolgono nell'area D'Or del parco commerciale dove è installato un innovativo Totem Open Stage con impianto audio incorporato che consente ai musicisti di settare la loro performance autonomamente. e gli artisti che si esibiranno la data della loro performance saranno pubblicate sull'app Open Stage, sui canali digitali del parco commerciale, che faranno anche da cassa di risonanza di tutto Gli Orsi Summer Show 2022. L'invito a iscriversi e partecipare è aperto a tutte le band e a tutti gli artisti emergenti, a cui il parco commerciale Gli Orsi offre un'opportunità veramente unica di farsi conoscere, di farsi apprezzare dal vasto pubblico dei suoi frequentatori. Che cosa bisogna fare? È molto semplice, basta scaricare l'app Open Stage, registrare il proprio profilo e candidarsi ai vari slot, date e orari disponibili. Dunque, buona estate con Gli Orsi Summer Show!